E' una riconferma che fa sicuramente piacere, anche perché è frutto del lavoro di tutti i colleghi che sono all'interno di questa commissione che nel corso di questi due anni e mezzi credo abbiano ben lavorato, prodotto provvedimenti importanti come la legge sul contenimento del suolo, la riforma sulla valutazione di incidenza ambientale, le legge sulle ATER, riforme importanti che vedremo nel corso dei prossimi anni produrre dei risultati importanti per il vendito. Ci aspettano altri due anni e mezzo fino alla fine della legislatura che sono convinto saranno altrettanto produttivi, leggi importanti come quelle delle cave, come quelle relative al nuovo piano casa, saranno un ulteriore banco di prova per dimostrare che la politica quando si confronta su dei provvedimenti seri riesce a produrre risultati importanti e i venditi vedranno sicuramente nel corso dei prossimi anni ulteriori provvedimenti che miglioreranno la qualità della loro vita. Naturalmente c'è molta soddisfazione per questa rielezione all'interno dell'ufficio di presidenza della seconda commissione, una commissione che ha davanti due anni e mezzo di intenso lavoro, penso ai prossimi appuntamenti di lavoro che riguardano ad esempio e solo ad esempio la legge sulle cave, poi il piano cave, la legge sui parchi, il nuovo piano casa e tante altre norme che affronteremo in questa commissione che avrà quindi un lavoro aperto molto importante per dotare la nostra regione di leggi utili alla tutela del territorio, tutela dell'ambiente, per le infrastrutture e quindi utili a tutti i cittadini.